Ovviamente parlano con direttori, procuratori, calciatori, partiamo a casa notizie. Chiara Basso, buonasera, benvenuta, ben ritrovata. Elaria Bianchi, buonasera, benvenuta. Eccole le nostre ragazze e andiamo immediatamente giusto... Il famoso giro di attaccanti che ti stavo dicendo dall'inizio, anche su Lukaku, giuntoli a detto e non detto. Io penso che questa settimana, fino a venerdì, diranno qualcosa di fondamentale. Io penso che la Juve voglia fare casa. L'impatto è stato... Però tu arrivi alla Juventus. È vero che ci sono offerte dalla rabbia, ma sta valutando se proseguire o meno la sua carriera. Martina mi risponde di sì e che lo vedrà in questi giorni perché è stato in vacanza, quindi devono aggiornarsi. Soprattutto se sta in vacanza. Però, non si va a trabasso. Ciao ragazze. Grazie, a domani. A tra poco, lo sai che...